Ciao ragazzi, ciao ragazze, proseguiamo con gli argomenti contenuti nell'unità 4 che, come avrete ben capito, è un'unità ricca di contenuti, quindi bisogna un po' alzare il passo. L'ultima volta abbiamo visto un argomento relativamente limitato e, diciamo, semplice per chi lo studia, cioè les articles contractés. Oggi andiamo avanti e vedremo come parler de ses loisirs et dir ce qu'on aime, cioè parlare del tempo libero e esprimere ciò che ci piace o non ci piace. Se noi andiamo al libro, sul libro a pagina 69, vediamo un po' di lessico inerente allo sport e al tempo libero. Allora, vediamo un po', ci sono delle immagini abbastanza interessanti e chiare su come esprimere lo sport. Intanto vi invito a vedere la differenza tra faire du sport, quindi fare sport, quindi con l'uso del verbo faire che abbiamo visto qualche lezione fa con quel video con la canzoncina della ranocchia. E il verbo jouer, che è un verbo del primo gruppo, che in realtà ha tre significati diversi, come dissi l'ultima volta quando abbiamo parlato del dialogo. Jouer, come in inglese, significa non solo giocare ma anche recitare e l'altro significato è suonare uno strumento. Quindi jouer qui ha il significato di giocare, giocare uno sport. Quindi, ad esempio, io dirò con il verbo faire, faire de la natation, fare nuoto, faire du ski, faire du roller, faire du vélo, fare sci, fare pattini. Il roller, avevamo visto, è quel tipo di pattini con una fila di quattro rotelle. E faire du vélo sarebbe fare bicicletta, andare in bicicletta, diciamo noi. Invece jouer è jouer au foot, giocare a calcio, jouer au volet, giocare a pallavolo, jouer au tennis, giocare a tennis, jouer au basket, giocare a basket, jouer au rugby, giocare a rugby. Vi invito anche a notare la differenza. Faire de la, faire du, quindi è la preposizione articolata con de che segue il verbo faire. Mentre qui il verbo jouer, se dobbiamo esprimere lo sport, state bene attenti, quindi giocare a qualcosa, giocare a calcio, dobbiamo usare le preposizioni articolate con a, quindi jouer au foot. Ripeto tutto. Faire de la natation, faire du ski, faire du roller, faire du vélo, jouer au foot, jouer au volet, jouer au tennis, jouer au basket, jouer au rugby. Quindi questo per quanto riguarda gli sport. Vediamo adesso le loisir, cioè le attività del tempo libero. Anche qui abbiamo delle immagini abbastanza chiare. Allora, le attività del tempo libero, questi ovviamente sono degli esempi soltanto che dà il libro, sono le shopping, lo shopping, le jeux video, i videogiochi, la lettura, un livre, un bédé, la lettura, un libro, un fumetto. Ricordatevi che la bédé è una sigla che sta per bande dessinée. Alla lettra sarebbe striscia disegnata, quindi un fumetto, ed è femminile in francese. Le cinema, il cinema, regardé la télé. Qui cominciamo a usare dei verbi. Quindi, regardé la télé, guardare la televisione. Regardé è un verbo del primo gruppo, er finale. Ecouté de la musique. Con écouté ci vuole, se io ascolto musica, per dire io ascolto musica, devo usare il de la, quindi in realtà è un partitivo, comunque una preposizione articolata con de. Ecouté de la musique, ascoltare musica. Poi qui, jouer, ha un significato diverso rispetto a quello che avevamo incontrato prima. Mentre qui, jouer, significa giocare, e io dirò jouer au foot, con la preposizione a. Jouer du piano, per esprimere il suonare uno strumento. Quindi io dirò jouer au foot, per lo sport, ma jouer du piano, per suonare uno strumento. Quando jouer cambia significato, devo cambiare in francese la preposizione articolata. Jouer du piano, suonare il pianoforte. Jouer de la guitare, guitare femminile, quindi de la guitare. Suonare la chitarra. Jouer du violon, suonare il violino. Andiamo un po' a fare un riassunto, un riepilogo di quello che abbiamo detto. Allora, il verbo faire, faire du ski, faire de la natation, ricordatevi, prende la preposizione de, e ovviamente poi la dobbiamo rendere articolata al bisogno. Faire du ski, faire de la natation. Il verbo faire è un verbo che abbiamo appena imparato, verbo del terzo gruppo irregolare. Ricordatevi che i verbi irregolari stanno tutti nel terzo gruppo. Il verbo jouer, se significa giocare, allora prende delle preposizioni articolate con a. Jouer au foot, ma io posso dire anche jouer, au jeu vidéo. Quindi, jeu vidéo è un plurale, i videogiochi. E quindi userò o, che è il plurale di o. Jouer au foot, jouer au jeu vidéo. Se invece jouer significa suonare, io non devo usare la preposizione a, ma devo usare la preposizione de, articolandola come serve. Jouer du piano, suonare il pianoforte. Jouer de la guitare, suonare la chitarra. Adesso vediamo come utilizzare, come dire ciò che ci piace fare. Allora, io per esprimere ciò che mi piace fare, utilizzerò questi verbi che vedrete a schermo. Il verbo aimer, amare. Il verbo adorer, adorare, che è un po' più intenso di amare. E il verbo preferer, preferire in italiano, ma è sempre del primo gruppo in francese. Infatti vi metto in evidenza le desinenze. Sono tutti verbi regolari del primo gruppo. Soltanto su preferer c'è qualcosa da dire, ma lo diremo in un'altra lezione. Perché è un verbo con delle particolarità grafiche. Anche il verbo deteste, il verbo detestare, che serve per dire cosa non ci piace, è un verbo del primo gruppo regolare. Quindi tutti, tutti, verbi regolari. J'aime, tu aimes, il aimes. J'adore, tu adores, il adores. Je préfère, tu préfères, il préfère. Je deteste, tu detestes, il deteste. Eccetera. Ormai i verbi del primo gruppo li sappiamo coniugare o almeno spero. Vediamo un po', facciamo degli esempi. Nadine aime faire du shopping. Nadine ama fare shopping. Quindi possiamo tradurre in italiano a Nadine piace fare shopping. Tu adores gioer au tennis. Tu adori giocare a tennis. Nous preferons la lecture. Noi preferiamo la lettura. Il deteste. Jouer au jeu video. Loro detestano giocare ai videogiochi. Quindi, come vedete, verbo émé, adore, preferé, deteste. Verbi tutti del primo gruppo regolare. Ricordatevi che faire prende de. Jouer, quando significa giocare, prende a. A meno che non significhi suonare, in quel caso prende de. A meno che non significhi suonare, in quel caso prende de. Dunque, avendo spiegato tutto questo, cerchiamo di fare questo esercizio, che è il numero 5 di pagina 69. Indica qual è il passatempo preferito di queste persone. Leggiamo la prima frase. Sonia aime tout. Le rock, la pop musique, le rap, le jazz. Quindi, Sonia ama tutto. Il rock, la musica pop, il rap, il jazz. Qual è il passatempo preferito di questa persona? Noi possiamo dire che Sonia aime écouté de la musique. Quindi, tutti questi loisir che troviamo qui, possiamo utilizzarli con i verbi che abbiamo appena visto. Cioè, émé, adore, preferé e detesté. Quindi, possiamo dire, facciamo degli esempi generici. Sonia aime écouté de la musique. Se vogliamo fare un più intenso, Sonia adore écouté de la musique. Sonia préfère écouté de la musique. Sonia deteste écouté de la musique, che però significa proprio il contrario. E quindi, ad esempio, Sonia aime le shopping. Sonia aime les jeux vidéo. Sonia aime la lecture, eccetera, eccetera. Con questi verbi possiamo utilizzare tutti questi loisir. Andiamo avanti nell'esercizio. Yvonne passe son temps a lire des romans d'amour. Yvonne passa il suo tempo a leggere dei romanzi d'amore. Quindi, cosa possiamo dire? Che Yvonne adore la lecture. Yvonne aime la lecture. Yvonne aime, prefer la lecture, ad esempio. Oppure, Julien adore la piscine. Julien adore faire de la natation. Julien adore faire de la natation. Oppure, Julien aime faire de la natation. Poi, Nicole e ses jeux vidéo sont inséparables. Nicole e i suoi videojocci sono inséparables. Che cosa possiamo dire? Che Nicole aime les jeux vidéo. Nicole adore les jeux vidéo. Dunque, spero che questa spiegazione sia stata chiara. Mi raccomando, quello che dovete fare è acquisire questo vocabolario. Quindi, fate una bella cosa. Sul quaderno ricopiate questo schema. Cioè, fate l'elenco di tutti gli sport e i loisirs. Quindi, fate faire de la natation, faire du ski, eccetera. Jouer au foot, jouer au voler. E poi, fate anche l'elenco di questi loisirs, le shopping, les jeux vidéo, eccetera. Fino a du violon. Ricopiatevi, perché dovete acquisire questo vocabolario, che non è semplice. Poi, come al solito, vi inserirò un quiz su Edmodo, in modo da ripetere tutto e verificare da soli se avete compreso questo argomento. Ciao e a presto.